Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Come fanno i ventriloqui a parlare, far parlare i pupazzi senza muovere la bocca? Vediamo. Cantare in libertà Bene, questa è una puntata dedicata anche ai più piccoli. Oggi abbiamo in studio un ospite speciale. Su, su, sono io. Non tu, non tu. E Stefania, è Stefania, l'ospite speciale. Sì, sono io. Ciao a tutti, sono Stefania. Ecco, Stefania lavora con i bambini e dà vita proprio con l'arte del ventriloquismo. Ha i personaggi come Dino, che oggi vi mostreremo e vi faremo conoscere. Su. Ma come fate a dare vita e voce a questi personaggi senza muovere la bocca? Non ho mai capito. Allora, innanzitutto bisogna avere una respirazione diaframmatica buona. Ok. Poi, grazie a dei trucchetti e degli accorgimenti, si può riuscire a non muovere la bocca. Qual è il segreto che si cela dietro quest'arte? Allora, il segreto è innanzitutto tenere sempre la bocca semiaperta, altrimenti il suono non fuoriesce. Sì. Poi, per quanto riguarda le vocali, non hanno bisogno di essere... Di articolazioni. Di articolazioni, bravissimo. Mentre per le consonanti labiali, dette labiali, dove si muove la bocca tipo M, P, Q, B, B... Hanno bisogno di essere cambiate con altre e quindi riuscire in questo modo a... E quindi poi si riesce a dare un'illusione. A un'illusione, sì. Tipo io se volessi dire... Papero, direi... Totoro. No, non sono capace. Hai detto totodino. Su. Ma siccome questo è un canale dedicato alla voce, no? Certo. Tu sai anche cantare. Sì, so cantare io. No. Lo so cantare. Vuoi cantare? Eh, beh, Dino. Vuoi cantare, Dino? Sì. Cosa vuoi cantare? La canzone del compleanno. Ah, bene, perché lui fa tanti compleanni e quindi vuole cantare i tanti auguri, giusto? Sì. Allora, facciamo così. Siccome oggi sarà il compleanno di qualche persona che ci sta vedendo, dedichiamo questa canzone del compleanno a questo ragazzo o ragazza che ci segue oggi, va bene? Ok. Ok. Posso? Sì, puoi. Poi lo vuoi, vai. Tutti auguri, eh... Così che vuoi? Beh, eh... Felici. Felici, diciamo sì, felici. Ok. Vai. Tutti auguri, eh... Felice. No, felice. Felice. Tanti auguri, tanti auguri felici. Sì, generico. Generico, cioè, a tutti. Sì. Ok. Sei tu il nostro. Non morde. Ok. Tanti auguri a... Felice. Tanti auguri a felici. Allora, Dino, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri e poi continua, ok? Ok, ok, dai, vai, Dino, ti aspettiamo. Ora sono pronto. Vai, Dino, ce la puoi fare, vai. Tutti auguri a te... Tutti auguri a te... Tutti auguri... Così che ho... Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.